Andrea Wilson Andrea Wilson è un personaggio che mi resta una storia una bestia questo suonava la chitarra ma non si sa mica del liceo ma andava fuori in tempo però faceva la sonorità che ancora adesso non significa che non era che roba? Proviamo la storia un po' di mezzo per favore Fai 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.